Paolo Radio, India Alfa 677, sottovento 02 Riporta in finale Riporteremo in finale, India Alfa 677 Riporta siamo? 2-8 2-4 è la... Tiri sopra qua Alberto? Si Ok Tutto a posto Bene, a pista in vista, perfetto Velocità 120, flap 0 Ok, vado con le landing light Alberto Fuel pump, ok, flap, richiamo, faccio la chiamata Paolo Radio, India Alfa 677, finale per la 02 Ok, flap full, landing light, fuel pump, chiamata fa Leaving altitude Check Bene, molto bene Aspetta, la manica non c'è vento Ok Ok Un po' pesantino, eh Ma niente Parola il gestito Non ci sono vidi rullaggio qui, faremo il contropista Paolo Radio, India Alfa 677 Atterrati facciamo un contropista 02 Ricevuto E poi libera sulla destra, raccordo Alfa Libereremo sulla destra per il raccordo Alfa, India Alfa 677 La volta era un mistero le prime volte E te, pericordi, ah insomma se ricorda il più che godi di Contente chi, contente chi, vi ho detto più semplice Vedi che alla fine, come dicevano, è più facile dopo in volo le prime volte Ah, raccordo Alfa Si, sarà fuori lì, aspetta Là si vede un cartello nell'erba Ma qui Alberto, quando eravamo qui tu hai dato un po' più motore perché ti sei visto Stava scendendo Ah, un po' per l'effetto suolo forse Anche per l'effetto dell'aria Che ti fa meno Mi? Che ti? Cosa ti faceva l'aria? Eh, a un certo punto ti porta Poi tu scendi sotto le colline e viene meno l'aria e non ti porta più Ah, per quello Quindi dato, e non è successo sul suolo D'accordo Alfa è questo D'accordo Alfa è questo Perfetto, dopo parcheggiamo Eccolo là Oh, destra Ok Ok La pompa la puoi spegnere, ti tolgo il frappio Vai Meno 12 Landing light off Ok D'accordo Alfa è questo E questo E questo E questo Seguiamo After landing checklist complete Indie Alfa, Paolo, Indie Alfa 677 Usciamo adesso dall'accordo Alfa Parcheggeremo dove ci sono gli altri aerei A destra e in fondo Precauzione agli allianti Lo puoi mettere prima di quell'altro all'alta Lo metteremo in fondo Prima Bene agli allianti Quello con l'alta Indie Alfa 677 Dai stai largo Quindi in fondo Quello là dove c'era l'alta Qui in là Scegliamo questo Se ci dà istruzioni No, ora giri di qui E la metti qua Eccolo là che ti guarda Ok Ci fa segno ad andare avanti ancora un po' Le ali sono a posto Ok Ok Shoot down Check list Ok Check list Allora Push down Top Ok Top Engine Top Ok Top Radio Entro Out Ok Ooo So ¿Queda Ace Que ignoro Grazie.